Ciao ragazzi e ciao ragazzi e benvenuti sul mio secondo canale, il canale di cucina. Oggi ho pensato di farvi vedere un'altra ricetta di gelato, gelato light. Oggi vi farò vedere quello al cioccolato, perché dato che vi è piaciuto tanto quello classico, insomma, alla vaniglia, ho pensato di farvi anche questo qua. Se non avete visto l'altro video ve lo lascio in sovraimpressione. E passiamo subito alla ricetta. È un gelato light, leggero, senza grassi, senza zucchero, super super sano e buonissimo. Con poche calorie. Chi c'è qua? Piccolo? Cioè io non lo so, io non lo so come sei buono. C'ha un cuoricino nelle zampe, guardate. È vero c'è il cuoricino nelle zampe? Tu vieni qua, vieni qua, vieni nella tua padroncina. Che fa? Oddio che fa? Che fai tu? Come che fai? Che fai? Piccolo, che fai? Si scaraventa a terra. Cioè la buonezza, la buona assitudine di questo cane non era crimine, non ha confine. È cento forti buonino, buonino. E poi c'è la del cioccolato. E tu già tu sei al cioccolato. Tu sei tu al cioccolato, madonna quanto è buono. Mamma mia, buone buonissime. Ecco qua le nostre bananine, ragazzi. Come vi ho fatto vedere nell'altro video del gelato light, quello semplice, le banane vanno semplicemente adagiate su un vassoio di questa dimensione, di questa, come non è vero, ma non è vero. Vanno tagliate a fettine e vanno congelate, semplicemente sbucciate. Questo è tutto. Un'oretta, ma anche due o tre ore, insomma, vanno bene. E poi si mettono nel frullatore, molto semplicemente. Nenzi, dai, dammi una mano. A Reggi. Che pazienza. Reggo solo perché dopo me lo mangio. Già lo so, perché tu fai le cose proprio col cuore, è vero? Senza interesse. Eh, senza interesse. Sì, se succede questa cosa che si attacca e non si stacca, perché nell'altro video invece erano venuti un po' più morbide, quindi me l'ho fatto sto un po' in più. Se vi succede, basta che aspettate due o tre minuti, non vi preoccupare, non andate nel panico, e poi dopo vedete che si sta. Quindi aspettiamo due minuti, Nenzi. Ok. Nenzi, non le rompere, si sono staccate. Basta fare un po' così. Perché non puoi aspettare. Ho detto aspetta, no. Basta poco, non tu. Basta poco, si aspetti due minuti, che cavolo. Ma è sempre di fretta, un attimo di pazienza. E poi si sono staccate. Inizia a buttare queste qua qua dentro nel frullatore. Vediamo se Nenzi lo sa fare. Se ci riesce Nenzi, lo potete fare tutti voi. È vero. Chiudi, Nenzi. Chiudi bene. Spingi il botone. Se viene così, poi man mano, praticamente che si sciolgono, praticamente si fa gelato. Voi potreste anche aggiungere un po' di latte di mandorla, un po' di qualcosa di liquido, però perde quella consistenza un po' più dura. Quindi è meglio aspettare così. Frullare un po' poi fermare. Spingi un po' fin quando non diventa liquido. Se no poi dopo non me ne raccogliete bene troppo, risolto tutto in estate. L'inverno no, però in estate è meglio... Vai, vai. On. Aggiungi il cacao, dai. Cacao bio. Vai. Metti un po' di cacao. Basta metterne... Ma anche un cucchiaino. Un cucchiaino di cacao. Si, inizia con metterne uno. Vai. Poi frulla. Continua a frullare e vediamo cosa succede. Aggiungi un altro po' di cacao. Vai. Un altro bel cucchiaino perché ci faceva il bello. Denso dentro. Poi non ha bisogno di zucchero perché la banana è dolce. Quindi va a boccificare il cacao più amaro. Vai, chiudi. Ecco qua. La consistenza è proprio di un gelato. Guardate. Sembra proprio gelato a cioccolato. È fantastico. Guardate com'è bello. Guardate com'è bello gelatino. Bello, bello. Ah, bellissimo. Ecco qua. Guardate che bella consistenza. È proprio un gelatino a cioccolato. Bellissimo. Adesso, per renderlo ancora più saporito, visto che vi sto facendo una versione più particolare, in quell'altro invece ho fatto gusto vaniglia, quindi semplice, ci metto anche due granelle di nocciole. Guardate, guardate com'è bello. Diventa ancora più buono, ragazzi. Se è gelato, cacao e nocciole, senza grassi, senza zuccheri, perché non ci sono zuccheri aggiunti e non ce n'è bisogno, quindi è semplicemente dolcissimo. Sì, vabbè, diventa ancora più godurioso con un po' di granella di cioccolata. Se vi è piaciuto il video mettete mi piace, iscrivetevi al canale se vi piace questo canale, tante ricettine, ogni mercoledì e giovedì video nuovo. E noi vi mandiamo un bacio grande. Ciao, ciao. Ciao. Allora, se lo fate, fatecelo sapere e lasciateci un commentino. Taggateci. Taggateci anche su Instagram, è troppo invitante. Ciao, buon appetito. Ciao, ciao. Ciao. Grazie a tutti